È stato approvato dalla Giunta regionale toscana l'accordo siglato tra Regione e Medici di Famiglia grazie al quale i medici potranno eseguire nei propri ambulatori tutte le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, oltre che quelli anti-influenzale, anti-pneumococcica, anti-zostere, anti-meningococcica C, già previsti. L'accordo, il primo del genere a livello nazionale, è stato siglato dai sindacati FIMG, SMI e SNAMI. Il cittadino che si presenta per esempio nel mio ambulatorio, Mario Bianchi, io guardo direttamente sul sistema sanitario regionale, su SISPC, il suo stato vaccinale e se vedo che è scoperto che una qualsiasi vaccinazione gliela posso proporre, gli posso fare formazione su quella che è la vaccinazione stessa e se lui è d'accordo può andare direttamente nella stanza accanto dall'infermiera e fare la vaccinazione sul mio consiglio. L'accordo riguarda le vaccinazioni destinate ad adulti e adolescenti e punta a raggiungere in maniera capillare tutta la popolazione assistita. Noi crediamo in questo modo di aver messo in piedi un sistema che davvero dai cittadini che si vogliano vaccinare, che vogliano utilizzare questa misura di prevenzione, che è la misura di prevenzione più efficace nella storia della medicina, di utilizzarla davvero con grande facilità, senza nessun problema, senza dove prendere lunghi appuntamenti, senza perdere tempo, recandosi in un luogo dove sono abituati a recarsi, cioè dal loro medico di medicina generale. Nel 2018 per l'influenza in Toscana si è raggiunta la copertura del 56% a fronte del 75% previsto dal Ministero, del 79% per il meningococco e dell'89% per morbillo, parotite e rosolia con riferimento ai nati nel 2002.